Detenuto scappa durante la fisioterapia calandosi da una finestra, abbraccato mezz'ora dopo la fuga a Pesaro, era in carcere per tentato, omicidio e violenza sessuale. Carenza di personale all'ospedale Salesi, a rischio le cure per i bambini diabetici, papà disperato a Vera TV è sconvolgente, intanto i sindacati protestano davanti agli ospedali piceni per ferie mancate e pronto soccorso in affanno. Tour Marchigiano per Nicola Zingaretti, candidato all'Europea, ad Ascoli, l'ex segretario del PD Lancia, Nardini per le elezioni amministrative, critiche al governo Meloni per Italia e i comuni. Picchio, priorità all'iscrizione in Serie C, stallo per la gestione del club di Pulcinelli in D, l'Atletico Ascoli avvie colloqui per i rinnovi, Samb, Sarnano, la possibile sede del ritiro. Buonasera, ben trovati a questa nuova edizione del TG Marche. È durata circa mezz'ora questa mattina la caccia all'uomo da parte di una trentina di agenti per catturare il trentenne magrebino fuggito da un centro di riabilitazione. L'uomo in carcere per tentato, omicidio e violenza sessuale era riuscito a deludere la sorveglianza della polizia penitenziaria e a scappare da una finestra. Lo hanno trovato nascosto in un capanno domani il processo per direttissima. Una caccia all'uomo durata circa mezz'ora. Un magrebino di trent'anni in carcere presso la casa circondariale di Pesaro per tentato omicidio e violenza sessuale commesse a Milano con fine pena 2029 è fuggito intorno alle 11.30 alla polizia penitenziaria che lo aveva portato ad una seduta di fisioterapia nel distretto sanitario di Viare di Puglia, zona Parco della Pace. L'uomo è scappato saltando dalla finestra posizionata nel piano terra del centro di riabilitazione situato davanti alla piscina olimpionica. Colti di sorpresa, gli agenti di polizia penitenziaria hanno chiamato subito i carabinieri. Immediatamente è scattato l'inseguimento tra strade e campi, setacciando tutta la zona circostante al luogo dal quale il magrebino era scappato e nel giro di 30 minuti lo hanno rintracciato a circa un chilometro di distanza dalla fuga. Gli uomini dell'arma della compagnia di Pesaro e del comando provinciale che hanno agito insieme agli stessi agenti di polizia penitenziaria e alla polizia sono riusciti ad acciuffare il fuggitivo che si era nascosto in un campanno agricolo in via Lucioaccio. Probabilmente era stato visto e segnalato alle forze dell'ordine, mobilitati per le ricerche almeno 30 agenti. Alla vista delle divise il magrebino non ha opposto resistenza. L'uomo è stato arrestato e martedì mattina sarà processato in tribunale per direttissima. Restiamo sulla cronaca, siamo a fermo. I carabinieri sono in prima linea nella prevenzione e contrasto della violenza domestica e di genere. I militari di Petritoli sono prontamente intervenuti in aiuto di una giovane donna la quale ha denunciato l'ex coniuge. Dal 2015 infatti non provvedeva più al mantenimento dei figli come invece disposto dal tribunale. A Falerone invece un giovane pugliese è stato denunciato per atteggiamenti persecutori nei confronti della madre della propria compagna fino ad arrivare ad aggredirla fisicamente costringendola alle cure dei sanitari all'ospedale di fermo. Ed ora siamo sul pianeta sanità con le parole di disperazione di un papà di un figlio diabetico. Per il bimbo ci sono rischi legati alla carenza di personale presso l'ospedale Salesi. Per questo è stata indetta una manifestazione di protesta per il prossimo primo giugno. Ascoltiamo il servizio di Ciro Montanari. La carenza di personale nelle team multidisciplinare del centro di diabetologia pediatrica dell'ospedale Salesi impedisce allo stesso centro di fornire un'assistenza adeguata ai bambini affetti da diabete insulino dipendente. Una situazione insostenibile per l'AFAID, l'associazione di famiglie con adolescenti e infanti con diabete, che protesterà in piazza per richiamare l'attenzione delle istituzioni e delle popolazioni. Come struttura non ci hanno mai fatto mancare nulla, però la mancanza di personale, la mancanza di figure di riferimento, specie agli inizi, quando noi ne avevamo più bisogno, quelle sono mancate. Voi siete molto preoccupati? Noi siamo preoccupati perché è da poco che c'è questa notizia che questo centro sta in una situazione drammatica a livello di personale, di rinnovo, di strutture, di gente che possa seguire mio figlio in questo caso, ma tutti i bambini che come lui affrontano questa cosa e tutti quei nuovi bambini che andranno a affrontare questa patologia. Per noi è una notizia sconvolgente perché è come metterci su una strada. I familiari di bambini con diabete sostengono che, nonostante l'aumento costante dei nuovi casi di esordio e le chiare disposizioni della legge regionale riguardo le risorse minime necessarie per la cura di questa patologia cronica, le istituzioni regionali competenti continuano a ignorare le numerose richieste di adeguamento. Molte famiglie sono costrette a ricarsi fuori regione per ottenere le cure specialistiche necessarie e a un livello qualitativo di assistenza adeguato. Una condizione inaccettabile per una patologia così delicata, mentre il centro di diabetologia pediatrica del Salesi, che per anni è stato un fiore all'occhiello della sanità regionale, rischia la chiusura a causa della mancanza di risorse professionali. La possibilità che questo centro possa chiudere e dobbiamo andare in altre regioni o da qualche altra parte dove non ci sentiamo più a nostro agio, per noi è fonte di preoccupazione. Quindi questa notizia che tutto potrebbe andare a scomparire è qualcosa di, a nostro avviso, drammatico. Ancora cronaca a rogo nella palestra comunale di Sant'Elpidio a Mare, dove si sono introdotti alcuni vandali e hanno appiccato il fuoco. Pochi i danni in un edificio che aspetta di essere riqualificato ed è già chiuso da qualche tempo. Ma il gesto, ripetuto peraltro per la seconda volta, preoccupa il sindaco e tutta la città. Donate la lappa. Erano circa le 18.30 di domenica pomeriggio, quando i vigili del fuoco e la polizia locale di Sant'Elpidio a Mare si sono precipitati verso la palestra comunale, accanto alla scuola Bacci, per la segnalazione di due persone che si trovavano nei pressi ed hanno visto un fumo denso e nero uscire dall'edificio. I gnoti sono riusciti ad entrare ed hanno appiccato il fuoco, incendiando dei materiali in plastica che nel giro di pochi minuti hanno sprigionato un odore acre di bruciato che ha impregnato l'aria nell'intera zona in cui sorge la palestra, mentre dei vandali, datisi alla fuga, non c'era più alcuna traccia. Lei ieri ha visto il fumo nero? Sì. Abita qui dietro, vero? Sì, qui sopra. E qualcuno da casa sua ha chiamato i vigili del fuoco? Sì, perché se no ha detto che già era chiamato qualcun altro. Sul posto si è recato anche il sindaco Alessio Pignotti che è rimasto fino alle ore 22 dopo che il luogo è stato transennato ed è stata fatta una prima stima dei danni che fortunatamente sono di poco conto. Ma la cosa grave è che si tratta di un secondo episodio sempre lì alla palestra. L'altro, più lieve, si era verificato appena qualche giorno prima il Comune aveva provveduto a chiudere e mettere in sicurezza due accessi posteriori da cui i vandali erano entrati e che domenica sono stati violati di nuovo. Un atto sicuramente da condannare dopo quello più piccolo che c'è stato durante la settimana è evidente che sono delle ragazzate, questo ci tengo a precisarlo, ma è evidente viceversa che sicuramente avremo tutti i dati per capire chi sono stati colpevoli e la volontà è quella naturalmente di andare a capire il perché questi ragazzi agiscono in questo modo perché poi siamo stati tutti ragazzi, siamo stati tutti piccoli, quindi cavolate, passatemi il francesismo, ne abbiamo fatte tutte, però arrivare a questa gravità sinceramente è preoccupante. Lei è stato fino a ieri sera ad una certa ora tarda lì sul posto, quali sono i danni, qual è la situazione? La palestra è oggetto di finanziamento per il terremoto SR, quindi di fatto è inagibile, di fatto non c'è niente, quindi danni alla struttura di fatto è come se non ce ne fossero. Il problema è proprio che comunque vengono forzate porte, siamo già intervenuti in settimana dopo il piccolo gesto durante la settimana andando a serrare delle porte, quelle che erano rimaste da serrare ancora perché comunque non c'erano mai intrusioni in quelle altre porte, sono state forzate, quindi interverremo anche lì e ripeto, l'obiettivo è quello di andare a capire, ripeto, i dati ci sono e anzi ringrazio le persone perché ci sono stati dei ragazzi che erano in loco e quindi hanno visto, diciamo così, le scene e quindi sono stati utili, saranno utili ai fini di capire chi sono stati, diciamo così, i trasgressori e quelli che hanno fatto questo orribile gesto e ringrazio anche le forze dell'ordine, i vicini del fuoco che sono intervenuti, ripeto, grazie a questi ragazzi che appena visto il fuoco hanno avvisato, Carabinieri e 118 in via Colleoni nel primo pomeriggio a Porto d'Ascoli, due uomini, un sessantenne ed un cinquantenne hanno iniziato a discutere lungo la pista ciclabile finché dalle parole sono passati ai fatti, ne è sorta una collutazione e ad avere la peggio è stato il cinquantenne finito a terra, sul posto sono intervenuti i militari dell'arma di San Benedetto per sedare la lite e ricostruire quanto accaduto, allertata anche l'ambulanza del 118, i sanitari hanno provveduto a trasportare il cinquantenne al pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto, l'uomo non è in gravi condizioni. Il tour nelle Marche nel Piceno per Nicola Zingaretti, l'ex segretario del PD, candidato per il Centro Italia alle prossime elezioni europee. Dopo la riviera è stata la volta di Ascoli per sostenere la candidatura a sindaco di Emilio Nardini e rilanciare il progetto del collegamento dei due mari, mentre l'aspirante sindaco fa appello agli ascolani per andare a votare e cambiare le cose. Sentiamo Rossella Luciani. Tappiadosimo, Ancona, Recanati, Montegranaro e doppia fermata nel Piceno per il tour elettorale di Nicola Zingaretti. L'ex presidente della Regione Lazio ed ex segretario del PD è candidato alle europee. Attualmente il deputato Dem è il numero due nella circoscrizione centro, dove il PD dovrebbe far scattare tre o al massimo quattro seggi con i resti. Sfida aperta dunque con gli altri candidati marchigiani, in primis i pesaresi Matteo Ricci e Alessia Morani. Dopo la cena di domenica sera a San Benedetto del Tronto, nella mattinata di lunedì Zingaretti si è fermato ad Ascoli, nella sede del candidato sindaco del centrodestra Emilio Nardini, esprimendo preoccupazione, in primis per i recenti tagli del governo a comuni e province. Oggi la colpa principale della destra italiana è nel fatto che sta buttando a mare le opportunità che avevamo conquistato con Next Generation U, cioè con 270 miliardi di euro di investimenti per la sanità, per il diritto allo studio, per portare servizi dei territori, per il dissesso idrogeologico, per la transizione energetica, non era scontato. Gli altri paesi non lo volevano e noi abbiamo combattuto e abbiamo vinto questa battaglia. Quindi la cosa più importante da fare adesso non è cercare miracoli, ma già solo far atterrare nei territori quello che abbiamo conquistato. Non sarebbe tanto, invece ieri il governo Meloni ha annunciato che taglierà un altro miliardo di euro ai comuni che hanno speso meglio i fondi del PNRR. È una follia, perché dicono tanto voi i soldi li avete, potete anche non averne altri. Ecco, bisogna distruggere questa follia, non uso altre parole, che porta a penalizzare i comuni più virtuosi. L'altro cavallo di battaglia di Zingaretti, che si è addetto al fianco delle aree interne, è quello delle infrastrutture fondamentali per evitare l'isolamento del centro Italia, come il collegamento dei due mari. Ma anche il desiderio di far tornare i cittadini ad essere partecipi, come recita lo slogan del dottor Nardini. Sì, il motivo è molto bello, è scritto nello slogan, un nuovo futuro, perché tanta gente non va più a votare perché ha perso la speranza che le cose possono cambiare in meglio. Invece non è vero, in realtà i problemi si possono affrontare. Ripeto, 270 miliardi di Euro sono una cosa concretissima, è un crimine dell'umanità ed è contro gli italiani il fatto di perdere questi miliardi. O peggio ancora, l'autonomia differenziata che ucciderebbe il centro Italia. Io sono stato presidente di una regione, ho scommesso tutto sull'Italia dei due mari, perché anche le interne ritrovano una speranza se uniamo i due mari con infrastrutture e con politiche di sviluppo. Gli avversari di questo progetto sono del centro-destra che non ci ha mai creduto, non ci ha mai creduto. E quindi un nuovo futuro è possibile, ma bisogna cambiare chi gestisce il potere. Infine l'appello del candidato Nardini a recarsi alle urne numerosi l'8 e 9 giugno per ribaltare l'attuale governo cittadino di Fratelli d'Italia dei suoi alleati. Ecco, l'occasione della venuta di Zingaretti che ha detto queste belle cose importanti, io voglio dire un'altra cosa agli ascolani. Dobbiamo uscire da questa situazione, per far questo dobbiamo andare a votare tutti. Importante un appello al voto per i cittadini, perché se voi non vi occupate della politica, comunque la politica si occuperà di voi, senza di voi. Questo è il messaggio che voglio dare forte e chiaro. Carenza medici, difficoltà ad organizzare le ferie estive, pronto soccorso in affanno, ma anche liste d'attesa con i cittadini che sempre più si vedono costretti a ricorrere al privato per le cure. Sono queste le motivazioni della doppia protesta dei sindacati davanti agli ospedali piceni, che hanno contestato alcuni atteggiamenti del direttore dell'Ast, la dottoressa Nicoletta Natalini. Sentiamo. Protesta dei sindacati e dei lavoratori del settore sanitario davanti alla Madonna del Soccorso, i tagli, l'aumento delle ore non godute di ferie e tante altre problematiche. Abbiamo ascoltato alcune voci di alcuni sindacalisti. Tante le proteste che si svolgono ormai ciclicamente qui alla Madonna del Soccorso, oggi lei però nei manifesti ha proprio quello della direttrice generale dell'Ast, Natalini. Perché? Ma i dipendenti hanno accumulato 500.000 ore di lavoro in più rispetto a quelle contrattualmente previste. Devono fruire ancora di 50.000 giornate di ferie. Devono riscuotere i tempi di vestizione dal 21 maggio 2018 ad oggi. Devono riscuotere le progressioni orizzontali del 2022 e 2023. La produttività del 2023. Sommate, questi importi sommati, portano circa 20 milioni di euro. 20 milioni di euro diviso di 2.000 dipendenti significa che mediamente ogni dipendente accumulato nei confronti del datore lavoro, l'Ast di Ascoli Piceno, circa 10.000 euro cada uno. Secondo la Natalini noi non potremmo protestare, dovremmo andare nelle sedi interne, nelle aule interne dell'Ast a fare delle assemblee, ma non è lei a poter dire a noi quello che possiamo e non possiamo fare. La situazione è gravissima, i servizi sono veramente a rischio, continuano ad aprire i servizi a iso risorsa, ad invarianza di personale e questo determinerà per il periodo estivo durante il quale non c'è personale anche per coprire appunto il piano ferie, una situazione disastrosa. Perché questa protesta qui davanti alla Madonna del Soccorso? Allora, i tagli alla sanità pubblica evidentemente creano un problema ai cittadini, creano un problema ai lavoratori diretti della sanità, ma le progressive esternalizzazioni dei vari servizi creano problemi, chiaramente hanno un riflesso anche nei lavoratori in appalto. Il taglio che è stato operato nei confronti delle risorse per le attività in appalto ha fatto sì che il carico di lavoro delle lavoratrici, perché sono soprattutto donne, impiegate nelle pulizie, nella somministrazione dei pasti, sia esagerato. I problemi di pronto soccorso sono iniziati in maniera più pesante dal momento in cui abbiamo inserito medici di cooperative, nessuna colpevolizzazione a livello personale, ma i livelli di competenze e professioni sono diversi dai nostri strutturati. Dopodiché la medicina territoriale non trova ancora luce e quindi i pazienti non possono essere accolti tutti nella stessa struttura quale è il pronto soccorso. Dobbiamo trovare delle soluzioni organizzative che portiamo avanti come idee anche nostre dell'UGL da qualche anno. La pagina dedicata alla ricostruzione post-sisma, questa volta vi portiamo a Tolentino per aggiornarvi sullo stato dei luoghi. Sentiamo. Nel nostro giro tra cittadini e paesi colpiti dal sisma raccontiamo come si è ripresa la vita, le attività e la ricostruzione a quasi otto anni dal terremoto del 2016. Tolentino, la cittadina più grande del cratere che non ha mai avuto in centro la zona rossa, è stata comunque molto danneggiata. Oggi, con tanti cantieri in centro storico, la difficoltà sta nella viabilità e i parcheggi. Inoltre c'è meno gente perché si è spostata fuori. I commercianti sono critici. Qual è la situazione che vivete ad otto anni dal terremoto? Allora, noi abbiamo aperto da poco qui a Tolentino. La situazione che si vive non è delle migliori perché non c'è mai tanta gente, non c'è passeggio, è mancante proprio la qualità e la quantità delle persone che girano. Noi siamo giovani, lavoriamo sia online sia fisicamente. Noi abbiamo un altro piccolo negozio a Civitanova Marche dove la situazione è molto meglio di qui. Se dovessimo puntare solo sulla risorsa a Tolentinate non avremmo mai aperto il negozio. È una cosa che non è possibile, non è sostenibile perché, uno, non ci stanno aiuti e, due, non ci sono persone. Quindi è normale che un qualsiasi commerciante che non lavora online o che ha dei limiti, delle barriere, date dall'età, date da tantissime cose, a Tolentino non può lavorare. Qual è la situazione a Tolentino per voi commercianti? C'è il pubblico solito, c'è meno gente, insomma si lavora bene? Non tanto. La gente ne è andata via parecchio perché le case sono tutte in ricostruzione e la gente ce n'è poca. Si lavora così e così. Però certo il nostro negozio diciamo che ce la caviamo via. Il problema anche dei parcheggi, parcheggi, tanta gente non entra, non viene perché non sa dove lasciare la macchina. Io ho circa 25 anni che sono qua e ho visto prima il periodo, c'era molta più gente, ma anche le chiese erano aperte, molte chiese, molte altre cose, quindi c'era più giro. E quindi i Tolentinati giravano più anche per il centro. Adesso mancando delle strutture, anche queste qua mancano e quindi tanta gente non c'è. Qual è il problema principale che riscontrate? E poi tanti negozi hanno chiuso? Allora sì, delle attività hanno chiuso, alcune altre stanno provando a riaprire. E quindi sì, le difficoltà sono note a tutti quanti, mancano le persone. Ecco, quindi mancando le persone si lavora un po' di meno. Poi noi inventiamo sempre qualcosa, ci diamo da fare qui i commercianti, facciamo sempre delle nuove proposte, ma ecco, io vedo anche le altre città, sono molto in difficoltà. Ancora temporali nei prossimi giorni, intanto la pioggia di Grandine che è caduta ad Arcevia ha fatto il giro del web. Vediamo. I temporali non si fermano nelle marche. Potrebbe servire l'ombrello a portata di mano nelle prossime ore in gran parte delle province della nostra regione. D'altronde, anche negli scorsi giorni, i violenti acquazzoni si sono verificati da nord a sud. Si presentavano così le strade di Arcevia, in provincia di Ancona, sabato pomeriggio. Un fiume di Grandine ha allagato le strade del paese, inviancate da grossi chicchi caduti in abbondanza. Il temporale ha scaricato 44 mm di pioggia, creando notevoli disagi alla viabilità per qualche ora. Per i prossimi giorni ci si aspetta un tempo piuttosto variabile e non si escludono altri rovesci. Quali sono le tendenze da qui ai prossimi giorni a livello temporalesco? Sì, nella giornata di domani ci saranno ancora rovesci o temporali, in particolare nelle zone interne e collinari, che localmente potranno essere anche di forte intensità. Questa tendenza andrà avanti purtroppo per le giornate anche di mercoledì e giovedì. In particolare per giovedì al momento sembrerebbe esserci un peggioramento, quindi pioggia maggiormente diffusa. Adesso poi ovviamente, essendo i temporali abbastanza poco prevedibili, soprattutto a lungo periodo, bisognerà comunque guardare le informazioni che arriveranno giorno per giorno dai modelli numerici di previsione, per essere un po' più precisi. E invece con le temperature come siamo messi? Dunque, le temperature ovviamente dipendono un po' dai fenomeni che accadono di luogo in luogo. Quindi in una giornata temporalesca, per fare un esempio, come è stata quella di sabato, è ovvio che dove arriva il temporale, magari nel periodo temporalesco, la temperatura ovviamente diminuisce per poi risalire col solleggiamento. Stazionaria o il più in lieve diminuzione è legato al fatto che la copertura nuvolosa dei temporali magari si espande un po' su tutta la regione e quindi attenua i benefici dell'insodazione. Parata di stelle per il Comitato Paralimpico Italiano della Regione Marche che a meno di 100 giorni dall'avvio delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Parigi ha premiato atleti, tecnici e dirigenti che si sono distinti nelle loro specialità. Ce ne parla Teodora Stefanelli. Il Comitato Italiano Paralimpico della Regione Marche premia i suoi atleti a meno di 100 giorni dall'avvio delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi ha premiato sportivi, tecnici e dirigenti che si sono distinti nel corso dell'ultimo anno. Le premiazioni sono avvenute in una cerimonia che si è tenuta nella sala conferenze della FIGC Marche. Credo che questa sia la testimonianza, visto il numero di persone premiate, la testimonianza di una crescita esplorenziale del mondo sportivo paralimpico. Naturalmente questo è merito non solo di noi dirigenti, ma soprattutto di chi opera sul campo quotidianamente in maniera costante e seria ed onesta offrendo la possibilità a persone con disabilità di fare attività sportiva. Emozioni, talento e determinazione sono le caratteristiche perfette di questi uomini e donne distintisi nello sport paralimpico, dal Fioretto al Lancio del Giavellotto fino alla Staffetta. Penso che in questo momento essere marchigiani, penso che un pizzico di orgoglio lo dobbiamo avere perché lo sport ci sta regalando veramente tante tante soddisfazioni. Grazie a tutti.